Viso subito anche Monica che Marcus interpreterà il tuo… aspetta, Monica, aspetta, Monica. Sì? Grazie. Sì. Hai Monica. Grazie, ciao Marcus. Eccoci. Interpreterai il tuo test e così avremo anche questa possibilità. Grazie, grazie. Allora. Buonasera a tutti. Buonasera, Giorgio. Allora. Ah, professoressa. C'è anche la professoressa Feno, Università di Sassari. Benvenuta. Buonasera, grazie e bentrovati. Allora, iniziamo facendo una piccola premessa su quello che a mio avviso ci dovrebbe unire, dovremmo unire le forze. Grazie. Io sono stato recentemente, sono tornato questa settimana dal congresso sulla longevità con la professoressa, anzi grazie, la professoressa Feno, Antonio Covello. Grazie, grazie. Grazie. Una cosa che vi chiedo, per piacere, chiudete tutti l'audio perché sennò mi ritorna tutto i rumori. Vi chiedo di chiudere tutti l'audio. Grazie. E quindi è venuto, abbiamo capito che veramente le informazioni che noi sappiamo, che divulghiamo, non arrivano, o meglio, fanno finta di non vedere, a livello politico, a livello sociale. E quello che mi preoccupa di più non è solo studiare la longevità, ma studiare la denatalità. Vi do alcuni numeri per settarci un attimo su quello che, a mio avviso, dovrebbe essere, penso, un denominatore comune nel capire quello che possiamo fare insieme, soprattutto con questo strumento. Faccio proprio 5-10 minuti di introduzione, ma proprio per allineare due cose. Non so come mai mi è successo questo. Guardate, questo, vi ho portato solo dei dati. Questo è il dato di quello che sta succedendo. A parte la longevità e il record di Perdas de Fogo in Sardegna, che hanno, come sapete, hanno fatto il record, sono arrivati a questi numeri straordinari, 837 anni insieme, pensate che meraviglia. Io, quando ho fatto la foto con la centenaria, ho detto, questi sono 160 anni insieme. Lei ne aveva 101, io 59. È una cosa veramente meravigliosa vedere queste persone. Però io dico, bene, i centenari hanno già vissuto. Chi è che di noi non vorrebbe spegnere la candelina dei 100 anni? Però c'è un problema, che quando parliamo di longevità, questa grande scienziata, premio Nova la Medicina, ci ha detto, ci ha dato qualche linea guida, 273 lavori scientifici, e ci ha detto che il maggiore controllo dell'invecchiamento, dice, è la conseguente maggiore responsabilità individuale e sociale. Quindi la scienza che allunga la vita dovrebbe essere da noi operatori, voi operatori, noi tecnici, comunque dovremmo incominciare a capire che c'è un problema psicologico, di tutto il discorso legato ai motori importanti, che sono quelli del metabolismo, i nutrizionali, i sociali. Cos'è che influenza l'invecchiamento? Ne ho sentite di tutti i colori, e pochissimo si parla del DNA mitocondriale e della funzionalità delle cellule, ma vi do alcuni riferimenti. Guardate che bella questa frase della Epper, che ha preso il premio Nobel insieme alla Blackburn, ci dice, penso che se le persone fossero più consapevoli che la nostra biologia sia plasmabile dall'esperienza che conduciamo, allora di conseguenza avrebbero una maggiore percezione sulla capacità di controllo sulla loro vita, sulla loro salute mentale e sulle esperienze che scelgono di vivere e sulle loro scelte della vita. Una frase così dovrebbe far riflettere non solo noi tecnici oppure operatori del settore, medici, nutrizionisti, ma soprattutto la politica. Allora, cosa stiamo facendo? Guardate, ci sono dei biomarker che vedono i problemi solo quando sono nati a livello cellulare. Questa è una pubblicazione, 19 settembre 2023, proprio sull'aspettativa di vita, e ci dice che il risultato della nostra ricerca rafforza l'idea che per seguire la longevità non bisogna considerare solo i germi. Ma dai, allora la longevità possiamo anche modularla se sappiamo come fare. Ma ancora di più parlano del fatto, adesso qui alcuni dati non ce l'ho, sul fatto che chi ha il colesterolo più alto vive di più. Se abbassi il colesterolo, cambi di meno. E lo stesso sul glucosio, sulla glicemia, eccetera. Quindi anche qui abbiamo molto da lavorare. Ma i dati più preoccupanti per me sono questi. 58 milioni di abitanti e nel 2022 eravamo già almeno 3%. 1.2 siamo in Italia, di natalità. Ma ancora più preoccupante è il fatto che noi siamo praticamente quasi all'ultimo posto nel mondo come natalità. Guardate, siamo a 1.2. E c'è una combinazione, c'è un fatto che sempre più, vedete, la popolazione cala, e quindi le donne rispetto al 2008 oggi sono 2 milioni in meno, anzi 2 milioni e 200 mila in meno, pensate già nel 2003, ma soprattutto quelle in età fertile. E il calo del numero delle natalità va perché sta diminuendo la donna, ma anche perché c'è un calo della fecondità. Quindi c'è sempre più persone infertili. Cara Simone, E questo lo sai bene. Ma il problema ancora più grave è che nel 2040 si dice che ci sarà un calo demografico veramente preoccupante. Questa è la trasmissione di cui abbiamo discusso ieri proprio a Telesardegna su queste tematiche. Guardate, sui problemi demografici dell'Italia, New York Times addirittura, chi si prenderà cura dei loro anziani. Nel 2080 si dice che arriveremo a 45 milioni. E poi i problemi della Cina, della Francia, della natalità. Ecco, penso che questo dovrebbe essere l'argomento cardine che ci dovrebbe accomunare nel perseguire dei consigli mirati, personalizzati per creare una cultura consapevole a partire dalle scuole, negli asili, alle maestre, alle insegnanti, ai professori, nelle università, ma a tutti i livelli. Questo non è un argomento solo per chi si occupa di salute, come dice il grande Luigi Montano. qui siamo, il fatto che stiamo, c'è un declino spermatico a livello globale, mondiale. Praticamente non riusciamo più a mettere al mondo figli perché c'è un calo degli spermatozoi e delle donne fertili. E delle donne. Capite come siamo messi? riduzione del numero di spermatozoi meno 51.6%. Entro 2100 l'intera società potrebbe collassare. Qui penso che dovremmo lanciare il grido d'allarme e non perdo mai occasione. Scusatemi che questa sera ci tenevo a dare questi numeri. Perché se non siamo consapevoli di quello che ci può servire uno strumento come S-Drive, al di là del qualità della vita, voi medici per l'anammesi, ma ci serve anche per combattere i danni che stiamo facendo a questa società. Siamo, cara Monica, 417% di autismo e dopo ne parleremo. Uno su 36. Questo è il dato. Questa è l'emergenza. Queste sono tutti, guardate, da 0 a 24 anni, aumento dei tumori maligni del 9% nelle zone a rischio. Nelle 200 terre dei fuochi conosciute, Prescia, Valle del Sacro, Taranto, terra dei fuochi, microplastiche nelle urine umane. No, non c'è bastato microplastiche nello spermo. Capite? Questa è l'emergenza. Questa è quello per cui dobbiamo continuare ad avere speranza, ma a lottare. Questa è una grande sfida. in arrivo nuove misure a sostegno della natalità. Ma se non risolvi i problemi e non fai prevenzione, la cura non è, questa non è la cura. Allora, questo è quello che dico. La vita è urgente, il DNA non è il tuo destino, la mente è più forte dei geni. Dobbiamo lavorare sui reali rischi congeliti, sulla costituzione della nascita di quella malattia, lavorare sulla salute dei padri, delle madri prima del concepimento. Perché quando io leggo che la proposta è quella di congelare il liquido seminale ai ragazzi di 18 anni che sono già quasi infertili, sono molto preoccupati. Ecco perché siamo al 60% di infertilità. Allora, arrivando proprio alla pratica di questo utilizzo dello strumento S-DRI, se è vero che l'epigenetica condiziona la salute di intere generazioni, cosa stiamo facendo per risolvere questo problema? Che strumenti voi avevate fino ad oggi per capire qual era l'impatto ambientale su queste persone a livello preventivo, predittivo e di supporto? Ve lo dico io. Io con l'esperienza a 25 anni in Italia e anche a livello insomma internazionale ho visto sempre degli esami per creare un problema, per contare un malato o per vedere un'infiammazione. Sì o no? quindi a livello predittivo preventivo io a livello vedo faccio l'esami del sangue sui problemi nati a livello intracellulare e cellulare o sull'organo poi lo vedo nel sangue. Beh, allora con questo strumento possiamo fare molto, possiamo riportare la produzione di energia a livello cellulare scoprendo quello che ha bisogno la cellula a produrre energia o capire quello che sta danneggiando la cellula. Tutto quello che voi sapete benissimo a cominciare dal giusto porto di ossigeno. Ma questo lo chiamo il menù del dolore e quindi incominciare a capire cosa c'è nell'iceberg delle varie problematiche perché quando poi valutiamo solo i sintomi sapete benissimo che contiamo solo cardiopatie, malattie cardiovascolari, tumori, diabete, sclerosi multipla, malattie neurogenerative in aumento vertiginoso e la nascita di bambini sempre più malati. Cosa stiamo facendo per risolvere questi problemi? Allora sì, abbiamo una scelta ma ecco perché la tecnologia S-Drive con un report personalizzato che possiamo utilizzare per migliorare la qualità della vita delle persone ma anche in ambito clinico per migliorare l'anamese conoscendo i sistemi che possono essere messi a posto partendo dalle varie carenze nutrizionali. guardate per esempio e sapete benissimo qui poi vi ho mandato in questi giorni anche tutte le tabelle anzi se non le avete fatemene richiesta anche ai vostri collaboratori su quello che potete fare quando vedete che c'è una carenza di vitamine di minerali di acidi grassi essenziali perché abbiamo queste tabelle del sistema antiossidante che vi possono aiutare anche vedete a livello gastrointestinale per capire come intervenire in maniera appropriata partendo dall'impatto ambientale che sta sprogrammando la vita di intere generazioni se noi entriamo in queste ottiche è un problema ecco perché l'epigenetica è una vera e propria rivoluzione ne parlavamo con la professoressa Fenn partendo dal fatto che ce lo dicono da sempre ma il DNA non è il tuo destino bene allora dobbiamo valutare il 2 il 10% o il 90 98% se l'epigenetica è il software della vita ecco perché la tecnologia S-Drive ci permette di poi indirizzarsi a quello che è la metabolomica ma il mio modo di vedere questo la metabolomica importante viene dopo l'S-Drive allora sì che vado a fare un profilo per approfondire il dato dell'S-Drive e a volte non serve neanche però lo faccio dopo e posso far risparmiare anche molto ai pazienti e alle persone perché avere a disposizione un test che mi riesce a valutare 800 marcatori chiave per migliorare la qualità dell'Italia delle persone penso che non esista al mondo quindi mi comprimento con tutti voi per aver scelto questo straordinario dispositivo partendo dal presupposto come sapete finisco sempre così che la vita senza amore non ha senso e qualsiasi professionalità senza amore non ha senso e come dice il professor Luigi Montano della Siro dice la salute è troppo importante per lasciarmi che se ne occupino solo i medici e mi è piaciuta e quindi me l'ha donata questa questa diapositive quindi la condivido con voi dobbiamo unire le forze ma dobbiamo soprattutto fare presto qui avete tutti i siti per approfondire tutto quello che facciamo e adesso partiamo dalla tecnologia S-Drive mi sono preso questi 15 minuti per proprio fare il punto della situazione la tecnologia S-Drive è quanto di più straordinario a mio avviso abbiamo potuto inventare nella tecnologia dell'intelligenza artificiale questo è il software che avete a disposizione e questa come sapete è la tecnologia S-Drive vi dico subito e vi consiglio di acquistare queste per i nuovi queste salviette le picche vedete questi fazzolettini per pulire il pozzetto e la bobina di S-Drive tra un paziente e l'altro poi una volta che avete fatto questo magari potete togliere i capelli con un fazzolettino naturalmente un Kleenex poi pulite con la salvietta e poi asciugate bene con togliendo tutti i i residui eh eh certamente poi te lo faccio dire sicuramente e quello che possiamo assolutamente anzi gli do subito la parola perché la professoressa non posso eh fare chi è che vuole dire due parole sulla chi è che voleva dire due parole eh aspettate eccoci qua Rita Giorgio una certa Rita voleva dire due parole sugli ultracentenari ah sì però eh in questo momento se no andiamo fuori fuoristrada dopo magari dopo volentieri eh dopo assolutamente volentieri ma se vuole dire due parole però non so come abilitare adesso perché no dopo dopo lo faccio dire volentieri eh Rita abbi pazienza allora una delle cose di eh che vi voglio se no poi perdiamo filo al discorso e i tempi sono veramente poi non c'è il tempo per il per la formazione è importante pulire bene non lasciare residui nella tecnologia S-Drive ricordate che avete il vostro insomma loghino per lanciare il software e collegate sempre la porta USB eh il la tecnologia eh su impostazioni vedete se non si dovesse collegare il dispositivo in automatico andate su collegare vedete qui che c'è collegare reinstallare il software o collegare qui basta cliccare su collegare da impostazioni si collega in automatico per chi ha installato da poco l'S-Drive vi consiglio di accertarvi di avere eh selezionato la cartella di destinazione di archivio selezionare la destinazione cercare andate su eh il desktop crea nuova cartella eh la nominate archivio S-Drive e poi eh andate sopra la cartella archivio S-Drive fatto questo fate ok e fleggate questo quadratino perché in modo che tutti i test che avete fatto vengono archiviati su quella cartella magari per chi è nuovo i vostri collaboratori vi possono indirizzare e guidare per creare questa cartella mi raccomando è importante perché poi se no perdete i test che avete fatto quindi archivio seleziona eccetera questo è importantissimo eh come si esegue il test S-Drive l'avete visto l'importante è una volta che avete collegato l'S-Drive nuovo accetto la privacy per chi è interessato abbiamo anche un facsimile per il consenso informato perché sapete che adesso il consenso informato è di moda anzi è obbligatorio per i medici e tantissimi centri però se volete abbiamo anche un consenso informato per far per far firmare perché si vuole sottoporre alla test S-Drive quindi nuovo inserite tutti i dati ricordatevi che quando arrivate alle mail basta che andate sopra vedete non si cancellano i puntini info chiocciola epinutracell.it questa tra l'altro è la mia email personale per chi la vuole scegliete il tipo di telefono e qui mettete il telefono voi questo non ce l'avete quindi vi basta andare su maschio o femmina il cap e il paese viene fuori in automatico basta cliccare e viene fuori Italia questi due flag questi quadratini ecco qui dovete porre molta attenzione se volete inviare il report in automatico è cosa che io non vi consiglio anche al paziente cliccate qui al cliente se invece volete solo mandare un promemoria cioè la tecnologia S drive vedete che qui sopra c'è promemoria qui sopra se io adesso mettiamo che ho sbagliato faccio cancellare e si resetta tutto se vado sul promemoria adesso non ho nessuna promemoria l'ho già inviata ma lui mi ricorda guarda che hai dei promemoria da mandare cioè ogni 90 giorni vicino ai 90 giorni alla scadenza dei 90 giorni il software vi mette in condizione di mandare invio promemoria a tutti a quelli che devono ritornare a fare il controllo io vi consiglio anche di chiamarli dopo 4-5 giorni sui consigli che gli avete dato per capire come si trovano come sta andando i consigli che gli avete dato poi sapete meglio di me come seguire i vostri clienti pazienti però questa è una buona regola con la tecnologia S-Drive e poi al novantesimo giorno prima del novantesimo giorno ritornano a fare il controllo in questo una volta che avete fatto per esempio prendiamo il mio un mio test come sapete dopo 12 minuti arriva il vostro test qui guardate io ne ho fatti parecchi vedete qui vi arriva il vostro test e voi cosa fate potete cliccate due volte si apre naturalmente basta cliccare due volte con il clic del mouse si apre e si presenta il vostro pdf potete decidere da report vedete qui report di aprirlo copiarlo sul dexter mandarlo al vostro cliente paziente potete anche vedere tutti quelli che non avete aperto non visualizzati qui sono tutti quelli che fate congresso mandati ai medici qui avete quelli che avete invece aperto visualizzati quindi questo è importantissimo e di qua voi lo potete gestire con report non so se voi lo utilizzate qui avete anche le note quindi qui potete anche scrivere avete anche proprio per scrivere le noti e solo l'anamisi di quella persona perché poi come avete visto se non cancellare non cancello niente come avete visto io ho tutti i report che ho fatto uno dietro l'altro che potete confrontare e quindi poi potete andare a vedere nelle note da quando lui è partito tutte le informazioni sia le note che aprendo il report per capire quali sono i progressi e i miglioramenti vi dico subito che in alcuni casi quando si fa il secondo test se la persona era molto intossicata prima e incominciamo a depurare l'organismo non è detto che ci siano dei miglioramenti possono esserci anche dei peggioramenti nel test perché il test come ci dirà Marcos è proprio come quello che diciamo la cipolla che piano piano finché va al cuore del problema ecco perché si dice di fare un check ogni 90 giorni e fare il test almeno quattro volte l'anno perché ci guida nel miglior supporto clinico oppure nutraceutico nutrizionale e questo lo sapete molto bene allora altra cosa molto veloce gli ordini dei test si fanno da questo vedete quando avete finito il vostro pacchetto iniziale andate su ordine lui vi controlla lo stock quindi potete anche controllare lo stock qui adesso non lo vedete perché se non lo vedete andate a destra col cursore oppure rimpicciolite l'immagine da più e meno perché a volte dico non vedo niente per forza se non vai a destra non ti vedi questi sono il numero il numero dei vari test io ho anche cani gatto sport però ordine controlla il tuo stock e vi da il numero in fondo a destra ordina prodotti qua mettete la vostra email dell'account e la password che avete creato in fase di installazione non è la password del collegamento S drive entrate dentro al software e adesso lo faccio vedere entrate dentro al software eccolo qua va ok Grazie a tutti